Piacere, luglio e agosto. Non ditemelo, il condizionatore. Esatto, dottore. La bolletta è sempre una sorpresa. Con l'offerta Luce 12 Dolomiti Energia, quello che consumi in 12 mesi lo paghi in 12 rate, tutte uguali. Seguo il mio istinto. Qui tutto è puro. È la natura che mi guida. Acqua Valmora, la fonte della tua natura. Quanto è difficile trovare una password che non sia debole. Crea password con un tocco. Scegli Chrome. Capsule a base di carta, completamente compostabili. Ah sì? Porno, i miei cavi! Ehi, fermi! Grazie mille. Caffè? What else? Sono compostabili. E sempre con quel gusto indimenticabile. What else? Buttale nell'organico. Nespresso. What else? Ogni grande avventura ha il suo supereroe. Viaggia verso mondi favorosi. Nuova Vitara Hybrid. È qui. Tecnologia da incentivi. Fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki. La forma delle emozioni. Stroili. Qui è tipico un paesaggio incontaminato. È tipico vedere le pecore pascolare nella loro zona di origine. È tipico usare il loro latte fresco, seguendo tradizioni secolari sempre vive. Per produrre un formaggio autentico, genuino, buono. È tipico che il pecorino romano DOP sia così. Pecorino romano. In Europa. Un formaggio buono e tipico per natura. Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini nel cuore del cacao. Ogni tre tavolette accumuli crediti per l'experience che ti va. Non mi piace. C'è ancora molto da scoprire. Questa sì, mi piace. E questo mese potete avere uno sconto esclusivo di 2000 euro sulle nostre cucine. Ah, ah, arredissima. Il bello delle emozioni è condividerle. Con il Wi-Fi di Team, IT Vision incluso. Vivi i successi di Disney Plus con Inside Out 2, Sita del Diana su Prime, l'intrattenimento di Discovery Plus ed Emily Impery su solo su Netflix. Un'offerta completa a 29,90 euro al mese. Hai tutto. Che spettacolo. Vieni nei negozi. Team, la forza delle connessioni. Il tuo gatto è un maestro di equilibrio. Proprio come Purina One Befensis. Bilancia i batteri intestinali per aiutare a proteggere il suo microbioma. Perché quando sta bene dentro, si vede. Purina One. Salute visibile. Oggi ed umani. Inizia subito il programma a tre settimane per risultati visibili già dal primo giorno. Purina One. Fatti mandare dalla mamma a buttare il vetro. Separa il tappo dal vasetto e togli sempre il sacchetto. Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi. Nel lampadine, nel tazzine, l'ambiente ringrazierà. Così il riciclo è perfetto e il vetro rinascerà. Salute è voglia di star bene. È sentirsi pieni di energia. Ma anche ricaricarsi. Salute è protezione. Ma anche prevenzione. Per tutti i modi di vivere la salute, c'è Immagina adesso di Generali. La polizza che ti offre check-up periodici e visite specialistiche con accesso rapido al nostro network con oltre 13.000 centri selezionati. Contatta subito i nostri agenti, sempre pronti ad ascoltarti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. Nel nome Explorer c'è una promessa. E per mantenerla abbiamo portato l'elettrico dove non era mai arrivato. Sfruttando un'autonomia fino a 602 chilometri. Attraverso le sabbie del deserto. E le piogge non soniche. Affrontando un viaggio intorno al mondo. Nuovo Ford Explorer. Tuo a 395 euro al mese. Segui La Sette, anche in verticale. Registrati sulle nostre piattaforme per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti esclusivi. Le migliori interviste, i documentari. I nostri contenuti podcast. Tutte le puntate dei tuoi programmi preferiti. La Sette, ovunque con te. Abbiamo a cuore i suoi sogni? Perché da sempre vi siamo vicini e vi accogliamo in tutta Italia. E con salva spesa portiamo sulla vostra tavola bontà e gusto a prezzi bassi. Come il prosciutto cotto alta qualità Crai a 1,69 euro. Crai, nel cuore dell'Italia.